Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, ci sono 4 km di coda in diminuzione per un incidente tra Calenzane e BV1 Variante in direzione di Bologna. In carreggiato posto rallentamenti per traffico tra BV1 Variante e Badia. In FIPILI possibili rallentamenti per perdita di carico tra Ponte d'Araove, Sponsacco e Gello in direzione Livorno. Possibili rallentamenti anche per presenza di personale su strada tra San Miniato ed Empoli Ovest verso Firenze. Per le statali segnaliamo cantiere aperti sulla stade 73 Senese-Aretina tra Arezzo-Est e Anghiari nei due sensi di marcia. Prima di salutarci per il traffico ferroviario informiamo che dal 1 al 10 agosto per lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Pistoia-Porretta i treni saranno sostituiti con autobus 1 via Pracchia e 1 via Collina. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!